Oggi siamo nel comune di Pignataro in Teramna e stiamo visitando questo terreno in località Santoianni. Grazie al video a 360 gradi potete apprezzare tutta la sua dimensione e guardare ogni singolo spazio. Potete spostare il vostro punto di vista con il dito se state guardando questo video da cellulare oppure col mouse se state guardando su versione desktop computer, quindi o mouse o dito sul cellulare e potete apprezzare tutti quelli che sono gli angoli. Riepilogando abbiamo questi oltre 8.000 metri quadrati con diverse destinazioni. Vorrei sottolineare che questo terreno in località appunto Santoianni in Pignataro in Teramna ha anche quota parte una destinazione ad espansione residenziale. Da Pignataro per il momento è tutto. Vi rimando agli ulteriori video sul sito ciolficasa.it